Infermieri protagonisti della sanità del futuro. Si è svolto stamattina a Perugia, presso la Sala dei Notari, l'incontro in occasione della giornata internazionale dell'infermiere che si celebra oggi. Tra i temi sui quali i professionisti sanitari hanno riflettuto confrontandosi con le istituzioni, ci sono le prossime sfide della professione in vista dei progressi scientifici e dei conseguenti cambiamenti che avverranno e il rapporto con il contesto umano e sociale, sia regionale che nazionale in continua evoluzione. Il infermiere è sempre più protagonista della sanità. Quali sono le criticità in estrema sintesi relative a questa professione e quali punti di forza? Allora, le criticità sono evidentemente un'evoluzione che è in corso. Abbiamo tanti giovani che hanno intrapreso questa strada, ce ne sono bisogno, c'è bisogno di tanti altri giovani, tanto altro personale per il territorio. Come dicevo poc'anzi, il Covid ci ha fatto capire a chiare lettere che serve un'inversione di tendenza. La sanità non può più essere ospedaleocentrica, ma deve essere vicina al territorio. Pazienti fragili e anziani hanno bisogno di un'assistenza specifica che solo l'infermiere può dare insieme al medico, evidentemente, ma l'alta assistenza è destinata proprio ad essere data dall'infermiere. Un'infermiere che deve essere sempre più preparato e sempre più motivato anche dal punto di vista dell'umanità. Che cosa si intende fare per sostenere gli infermieri? Allora, intanto il governo è già intervenuto e sta accelerando quelli che sono i decreti attuativi sulle professioni sanitarie, che aspettano da qualche anno, ma siamo arrivati come dire a redarazione, quindi le risposte bisogna darle. Bisogna darle perché manca personale, sia dal punto di vista medico, ma anche dal punto di vista infermieristico. Il PNRR ha costruito tanti contenitori che si chiamano ospedali di comunità, che si chiamano case di comunità, ma che hanno bisogno di operatori e l'operatore principale di queste strutture sarà l'infermiere. Quali sono le sfide che gli infermieri e le infermiere si preparano ad affrontare nel futuro? Le sfide sono tante, ne potremmo elencare molte, ma mi atterrò a presentarne due in maniera molto veloce. La prima sono le normative che ci vengono imposte anche a livello centrale dal governo, il DM77, l'infermiere di famiglie e comunità, questa assistenza che dovrà essere rivolta al territorio, a domicilio del paziente, che chiaramente tutto il sistema sanitario regionale, nonché quello nazionale, ne gioverà tantissimo anche a livello di costi e benefici. E l'altra che invece è davvero una innovazione per la nostra professione, che è quello dello svincolo di esclusività dai nostri datori di lavoro. E questo è davvero un processo innovativo, è un cambio epocale, culturale, alla quale la professione deve farsi trovare pronta per assistere i pazienti e per assistere i cittadini a 360 gradi.